Vorrei che faceste un applauso al nostro ultimo membro, Leonardo, il nostro Unfound Edition, il nostro ragazzino del curacolo. E stasera avevamo in mente tutto un altro tipo di spettacolo, quindi improvviseremo un pochetto, ok? L'unica cosa che possiamo dirvi è che abbiamo intenzione per la fine dell'anno di andare a registrare alcuni brani che forse riusciremo a fare stasera, vediamo, fra cui questo, Incarnation of Death. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.